Il giorno e la storia Oggi è il 21 settembre 1990 Assassinato Rosario Livatino Il giudice ragazzino 1924 Vittorio Emanuele III Inaugura la prima autostrada del mondo 1923 Nasce Sergio Zavoli Commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio Direttore di Avvenire Vanno fossati oggi compie 70 anni Auguri e grazie